Avvocati Avvocati Abbiamo incontrato il cioccolato Ma come sono un esempio Io spero di fare il cioccolato Ma più avanti Puoi fare il cioccolato Coltiamo i nostri avvocati Come sono solo due gallette Viamo a guardare il sentimento Un po' di avocado Lo portiamo fino Lo passiamo a un recipiente E procediamo Come se fosse un guacamole Agregiamo la crema E' già un po' di più Triturato E' già come una pasta O' una crema E' già un po' di più 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 E' già una ricetta E' già un po' di più E' ancora un po' di più G Romanian E' già un po' di più E' già un po' di più E' già不了a Sì Se fonda Grazie a tutti.